Quali sono le innovazioni in campo dello scompenso cardiaco? Il problema delle innovazioni è stato sollecitato dal tipo di pazienti che stanno riempiendo il nostro ospedale con scompenso cardiaco. Sono i pazienti più anziani, abbiamo un prolungamento della vita nella nostra nazione che ci fa onore, però questo ci porta ad affrontare terapie in pazienti con quadri di complessità, di malattia, perché spesso questi pazienti hanno, oltre all'insufficienza renale, a un certo grado di anemia, hanno anche dei problemi di autonomia fisica, hanno dei problemi di scompenso cardiaco. Questo porta a ricoveri reiterati, molto costosi, mortalità di questi ricorri è piuttosto elevata, perché con questi ricorri mediamente la mortalità all'interno della ricovera è intorno al 6-7%, ma al mese questi pazienti muovono al 10-11, qualche volta al 12% al secondo dell'età. Parliamo di pazienti che hanno sempre oltre i 70 anni, ma che arrivano anche al 90-95. Bene, abbiamo idea di fare una diagnosi precoce per evitare tantissimi ricorri, soltanto poi per recuperare una situazione che era recuperabile prima con dei farmaci più puntuali, più precisi, con dei dosaggi migliori. Abbiamo delle tecniche di assistenza al muscolo cardiaco, come la sincronizzazione nella inefficienza con trattere e desincronizzate del muscolo cardiaco. Abbiamo la clip per chiudere la valvola mitrale. Voi mi direte cosa c'entra la valvola mitrale con lo scompenso e vi rispondo subito. Uno dei meccanismi con cui il paziente muore, in prima istanza, è quello della funzione cardiaca che si riduce per vari motivi, per degenerazione, per ischemia, per strutturazione ipertrofica del muscolo che non è più elastico. E in secondo momento la dilatazione del cuore comporta una insufficienza grave della valvola mitrale e questa porta veramente a morte ma soprattutto a ricoveri di difficile gestione. Chiudendo questa valvola con una piccola clip in modo percutaneo, mettendo una, due, a volte tre clip, si riesce a risolvere e i pazienti hanno un benessere di anni, quindi non è soltanto una cosmesi di una valvola o di un problema, è un recupero funzionale di un paziente che torna a casa e riesce a fare una vita, proporzionalmente alla sua età, normale. Questo è un po' l'obiettivo per cercare di evitare di far stagnare i pazienti nei letti senza fare nulla e soltanto facendo diagnosi che poi non hanno uno sbocco terapeutico.